Questi non sono i Joy Division ed è davvero un peccato. Stradio, le birrerie crocche e la torta sacchero ha adottato il mio stile di vita verso l'infinito pub, i cavern. Dentro le catacombe però ci sono tre guarni, priorità e alternative al porco sporco della vita. Sì, sì, pare che le province saranno annientate dal federalismo perché non servono a un cazzo. Così come la strada provinciale, la gente provinciale vestita male, le persone di media notorietà, il targoncettino subalempino. La modernità moderata che morde il nulla e la nebbia di Londra che di fatto non esiste, scende e forse resta. Resta anche tu, ma portami poi quelle. Qui da piccolo mi incollavano i manifesti della Nega Nord sulla schiena. Altro problema, il cameratismo e l'omofobia da giamaicano in seminario. Che non riuscivo a stare serio, a recitare quattro Padre Nostro per il Signore della Droga. Mentre mi scacciavano dal Fioretto perché nemmeno sapevo l'Ave Maria. Facendomi sentire figlio di una cooperativa rossa di mignote, sono spuntate le bottiglie di vino del Duce nei minimarket. Le bottiglie del Duce vicino a quelle di Ernesto. E nessuno che regala dischi dei Cem. In piazza, nessuno fa la vera beneficenza. Nessuno è onesto. Nessuno capisce why dell'importanza di chiamarsi il pezzo di merda. E così, per il bene della terra, ci spegniamo le sigarette sulla faccia. E così, per il bene della terra, ci spegniamo le sigarette sulla faccia. E così, per il bene della terra, ci spegniamo le sigarette sulla faccia. E così, per il bene della terra, ci spegniamo le sigarette sulla faccia.